Salve a tutti, sono Matteo Montesi, vi leggo una notizia qua che ho trovato sul legno Ma chi è quel coglione lì dentro? Riffon salva la vita di un uomo, gli sparano con un fucile per... Ma dove cazzo stai? Oh, guarda, a volte tenere un smartphone nella tarda... Coglioni! ...della giacca A può fare bene, non riuscire... Mortacci tua! ...quella di cipena inglese Daniel Kennedy, padre di due bimbi che... E' il catetere, il ciorcatetere! Eeeh, lo tanti tua, la palla, le tira, porco di... Eeeh, è finito una discussione con altri ragazzi, la vita è... Eh, ma chi è questo trozzo che sta lì dentro? Ma no, è stato il fucile che non è un mozze, ha seguito che... ...gli ha sparato a distanza... Avrosio! Che coglione che sei? Eeeh, è stato ferito... Ha sgarrato il culo! Rotto il culo, zitto, in grado di condizione all'ospedale, Ma quasi per milagro ancora io! Vabbè, insomma, poi la notizia prosegue... Oh, state fermo, Barmiglio! ...lottone non fa lo stronzo! Eeeh, questa è la notizia, arrivederci alla prossima! Eheheheh... Lottone non fa lo stronzo? Com'è avvenuto? Bene! E così va scintanato, però! Eh si?